La legge di riforma del mercato del lavoro In quanto nonostante le modifiche introdotte rispetto all'impostazione originaria riduce gli elementi di flessibilità del lavoro in entrata e rende di fatto inapplicabile alcuni istituti molto utilizzati da questa tipologia di imprese come ad esempio il lavoro a chiamata E quanto è emerso nel corso del convegno riforma del lavoro e impatto sulle piccole e medie imprese tenutosi a Bologna e organizzato dalla Confese Centi dell'Emilia Romagna La riduzione del costo del lavoro e quindi del cuneo fiscale e la previsione di misure significative di incentivazione all'occupazione particolarmente importanti in questa fase di forte crisi economica In una fase in cui le imprese comunque soffrono c'è il calo dei consumi ovviamente l'impatto occupazionale al di là della riforma non sarebbe stato buono Se poi ci mettiamo anche la riforma che ha creato comunque tutta una serie di irrigidimenti per quanto riguarda l'entrata dei lavoratori ovviamente il risultato non è un risultato positivo Andrebbe creato un meccanismo di maggiore flessibilità per quanto riguarda l'entrata e di detassazione per quanto riguarda l'incidenza che il costo del lavoro ha a carico delle imprese e a carico dei lavoratori Rispetto a tutto questo non è stato fatto, l'unico elemento positivo che la riforma ha avuto è che comunque si interromperanno quelle casse integrazioni straordinarie rivolte nei confronti di imprese che erano decotte e che non potevano però rimane comunque sempre il problema occupazionale, quello della riconversione, quello di garantire comunque il lavoro Noi ovviamente abbiamo delle preoccupazioni e delle perplessità perché a nostro avviso specialmente dal punto di vista della flessibilità in entrata questa riforma non si soddisfa come confesiocenti Mi riferisco in particolare ai contratti a chiamata che sono stati non solo ridimensionati ma resi praticamente di fatto difficilmente praticabili Dal punto di vista dei contratti a termine c'è stato un aumento dei costi contributivi tranne che per quanto riguarda per fortuna i contratti di lavoro stagionali che grazie al Parlamento e alle nostre proposte sono stati modificati e anche per quanto riguarda altre fattispesse di lavoro flessibile sono stati ridimensionati, ridotti un po' addirittura soppressi come nel caso del contratto di inserimento Poi a nostro avviso invece ci sarebbe dovuta essere in questa riforma sicuramente una riduzione del mercato e del costo del lavoro del cuneo fiscale e incentivi più forti per quanto riguarda l'occupazione, l'incremento dell'occupazione Dal punto di vista delle norme in termini di quella che viene considerata la flessibilità in ingresso e cioè le forme dei contratti di lavoro con cui vengono assunte le persone ci sono stati dei cambiamenti significativi in ragione della quale sarà molto importante capire che cosa sarà successo ad esempio il contratto a tempo determinato ha avuto un aumento di costi in ragione dei quali vedremo se le imprese continueranno ad utilizzarlo sì o no dopo la riforma Per concludere con Fesezenti Emilia-Romagna ritiene importante continuare a riproporre due temi che nella riforma recentemente varata non sono contenuti la riduzione del costo del lavoro e quindi del cuneo fiscale e la previsione di misure significative di incentivazione all'occupazione particolarmente importanti in questa fase di forte crisi economica Per concludere con Fesezenti Emilia-Romagna ritiene